ebbene carissimi amici oggi un video ancora molto importante un appuntamento con i miei software e quest'oggi vi parlo quindi vengo a darvi testimonianza ancora una volta di un terno secco vero reale documentato ottenuto dai miei software in particolare dal software spia suprema questo è un software cari amici che non dovete perdere perché un software veramente molto potente che consiglio a tutti voi è un software che gioca un estratto 4 ambisecchi e 2 abbinamenti per tentare il terno sul 2 ruote fisse massimo 13 colpi di gioco e nell'estrazione del 27 ottobre il software accentrato l'ambosecco 68 24 quindi il primo dei 4 ambi consigliati ed il terno secco 68 24 56 su palermo oltre ovviamente anche all'estratto determinato perché giochiamo in quarta e quinta posizione in appena due colpi di gioco e sapete bene quanto paga un terno secco a ruota questi sono risultati l'ennesimo risultato di terno ottenuto dai miei software quindi cari amici non lasciatevi veramente scappare questo programma perché è veramente forte vi volevo proprio testimoniare quest'altra bellissima vincita di terno ottenuto su palermo 68 24 56 tutti coloro che hanno già il software in mano possono verificare questa bellissima vincita e questa è la schermata che vi trovate davanti quando attivarrete il programma alla voce statistica andiamo a vedere quali sono stati gli esiti dei software potete scegliere il periodo che volete mi facciamo per esempio da facciamo un anno facciamo ottobre 2017 ottobre 2018 vediamo cosa ha dato in questo periodo 103 previsioni giocabili 83 vincenti quindi guardate la percentuale che va oltre l'80% 16 negativi e 4 in gioco ha vinto 131 ambate 57 strati determinati 18 ambi a ruota 119 ambi in terzita e un termosecco in un anno non è male però se andiamo a vedere da gennaio 2017 notate che da gennaio 2017 ad oggi i termi sono stati 31 quindi la bellezza di 31 termi 490 ambi in terzita 101 ambi secchi a ruota 113 strati determinati e 292 ambate con una percentuale dell'89 per cento 89,22 quindi molto alta solo il 10 per cento di negativi 4 previsioni attualmente in gioco come vedete il software molto spesso va a pagare diciamo nei primi sei colpi molto frequente la vincita nei tre colpi addirittura al primo colpo abbiamo una percentuale del 23 per cento infatti del terno è uscito al secondo colpo quindi cari amici che dirvi in descrizione vi lascio il link per scaricare il programma ovviamente questo programma prevede il programma è già attivo per ambata ed è stato terminato in modo che voi potete anche testare l'efficacia del software per l'estratto ed è stato terminato chi vuole accedere alla versione completa mi contatta in privato l'indirizzo mail in descrizione io vi darò tutte le informazioni per avere proprio il codice di sblocco quindi la licenza completa del programma speriamo di essere sempre vincenti con i miei software e per adesso un saluto a tutti mister sbancolotto